sei su solo storie vere e ti do il benvenuto sul mio canale prima di partire con il video ti chiedo una piccola azione iscriviti al mio canale è gratis per me fa tanta differenza in questo video parliamo di giuseppe calò detto pippo giuseppe calò buscetta lo ha descritto come una figura delle più inquietanti di cosa nostra un uomo che all'apparire era educato era al centro invece degli eventi della mafia a partire dagli anni 70 nato a palermo nel 1930 in una famiglia mafiosa da generazioni di porta nuova e nipote di caetano filippone il padre fu ucciso da ciccio scaletta nel 1954 così lui cercò di vendicarsi del padre sparando a scaletta ma lo mancò scaletta però morì due giorni dopo con 14 colpi di pistola e per quell'omicidio verranno arrestati e poi rilasciati salvatore filippone e gerlando alberti giuseppe calò viene così affiliato alla famiglia di porta nuova grazie a tommaso buscetta nel 1963 viene arrestato in compagnia di nicola greco per un tentato traffico di droga con gli stati uniti trascorsi cinque anni in carcere viene scarcerato nel primo vero maxi processo alla mafia che si tenne a calanzaro dove non vuoi messa nessuna condanna all'ergastolo perché sarà in gran parte aggiustato e si avranno 22 anni ad angelo barbara 14 a tommaso buscetta e 6 a giuseppe calò così si ritrova nel 1969 a capo mandamento di porta nuova entrando poi nel 70 nella commissione nel 1971 venne assassinato il procuratore pietro scaglione e questo venne fatto nella sua zona dando vita al rapporto segreto con i corleonesi di dottorina nel 1972 viene sequestrato luciano luciano cassina figlio di un importante costruttore siciliano vengono arrestati per quel sequestro leonardo vitale francesco scrima e giuseppe calò vitale era il proprietario della lancia usata per il sequestro negli interrogatori tre si contraddicono e così vengono definitivamente arrestati con l'accusa di copertura del comando del rapimento questo venne accusato il pippo calò in pratica avrebbe messo a disposizione una sua villa nella zona di villa grazia che era poco distante da una tenuta del di cassina villa che da tre mesi prima era in costruzione e dove pippo calò con la scusa dei lavori avrebbe studiato tutti i movimenti di cassina con l'aiuto poi proprio di francesco scrima che si recava nella villa ogni giorno l'otto settembre del 1972 calò lascia il carcere per lo scadere del fermo della polizia mentre scrima e vitale rimangono in carcere nell'aprile del 1973 leonardo vitale crolla e diventa un collaboratore di giustizia verrà chiamato per quello il valaci siciliano vengono arrestate 32 persone con le accuse di omicidi estorsioni furti altri reati l'operazione fu coordinata dal colonnello dei carabinieri di quei tempi che era carlo alberto dalla chiesa tra questi 32 c'erano tommaso spadaro pippo calò e salvatore gambino leonardo vitale parlò con il capo della mobile bruno contrada dicendogli di volersi togliere un peso dalla coscienza ma poi il suo avvocato difensore chiederà alla corte una perizia dove verrà dichiarato addirittura pazzo da lì calò comincia a frequentare roma mettendosi nel giro del gioco d'azzardo e delle opere d'arte appoggiandosi al famoso strozzino romano domenico balducci e legandosi ad ernesto di otallevi comincia così a gestire il tesoro della mafia riciclando i soldi in attività lecide si mette a capo di angelo cosentino uomo a roma di stefano bontate nel marzo del 1976 viene rinviata a giudizio don agostino coppola invece vitale calò vengono prosciolti con l'obbligo di soggiorno per calò ma da lì pippo calò diventerà invisibile svanendo nel nulla si stabilisce così definitivamente a roma dove diventa l'ambasciatore della mafia nella capitale prendendo rapporti molto forti negli ambienti capitolini a partire da zazza e bardellino con il costruttore carboni e nella loggia del p2 di lucio gelli comincia l'investimento dei soldi della mafia tramite l'ambrosiano di calvi sostituendo il sindona che gestiva quelli di bontate in zerillo e dopo la morte di questi stringe forti rapporti con la banda della magliana con i nar prendendo pieni poteri nella cosa nostra stando solo sotto a totorina nel 1980 riesce fortunatamente a uscire da due notti pincella a ponte chiasso venne fermato perché aveva dalla tocana perché aveva dei documenti falsi dove risultava mario agli aloro ma dopo due giorni il capitano lo rilasciò e nello stesso giorno arrivò al rapporto da palermo dove era stato riconosciuto ma ormai era troppo tardi nel 1984 buscetta fa le sue confessioni ed ecco che quell'uomo pippo calò non troppo stimato dalle forze dell'ordine finisce sotto i riflettori e viene collegata da bruciati con l'attentata rosone il 30 marzo del 1985 viene arrestata roma nella zona di montemario dopo una latitanza durata 12 anni nelle varie perquisizioni dei suoi delle sue abitazioni verranno ritrovati gioielli opere d'arte e 380 milioni di lire in contanti poi il suo arresto fu quasi un caso sì proprio un caso che stavano indagando praticamente su nove malavidosi romani invece queste indagini porteranno a via titolivio lì dove invece di agli aloro c'era lui giuseppe calò grazie di avermi seguito fino a qui se ti piacciono questi contenuti fai un giro sul mio canale iscriviti è gratis e aiuti me e a crescere il mio canale grazie grazie